Facciamolo! Addio, cetriolo! Lo sto facendo bene! Sì! Ho tagliato un cetriolo! Ora posso postarlo! Diventerà virale! Ehi ragazzi, il nerd è qui! Date un occhiato ai miei premi! Evviva! Il mio unico e vero rivale? Me stesso! Wow! Ho soltanto un milione di visualizzazioni! Oh, non è giusto! Sono troppo forte! Buongiori, studenti! Oggi disegneremo un gatto! Fate del vostro meglio! Vi darò dei fogli dove potete disegnare! Un gatto? Come farò? Forse una riga qui e un punto qui! Due cerchi e uno scarabocchio! TikTok per sempre! Accidenti, questo non è un gatto! Miau, meraviglioso! Il meglio di tutti! Ciao, Steve! Posso copiare dal tuo? Copiare? Da me? Cosa? Sul serio? Non ti darei mai il mio disegno! Perché non si copia! Savvy! Prof Gabriella, Savvy sta imbrogliando di nuovo! Eccolo, nerd! Oh, Steve! Steve, ottimo lavoro! Steve, pronto? Steve, ci sei lì dentro? Ehi! Terra chiama Steve! Steve! Oh, fa niente! Lo prenderò comunque in prestito! Li presserò insieme! E strofinerò! Sì! Perfetto! Ecco qui! Oh, interessante! E questo? Ragazzi, ma avete barrato! Imponizione! Oh, no! È lei che... Steve! Steve! Disturberai il bambino! Du 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 du! Che dolce! Oh! Ma non sono incinta! Come osa! Sono solo golosa! Mi ho ora in punizione! Oh! Oh! Oh, no! Oh! E adesso? E adesso? Dato che vi piace così tanto il lavoro di squadra, vi darò un incarico. Finite questo e dopo potete andare. Oh, no! È matematica! Ma è impossibile! Penso che il mio cervello si sta sciogliendo! Dovrei essere in parte computer per poterlo risolvere! Tipo Steve! Interessante! Così tanto tempo, così pochi libri! Fatto! Mi serve più energia! Zucchero! Oh! Oh, sì! Quanta energia! Non riesco a stare fermo! Ah! Levati di mezzo! Steve! Come puoi mangiare così tanto cibo spazzatura? Io! Devo prendermi cura di me! Ora mi dedicherò a me! Le caramelle della natura! Mmm! Spuntini sani! Oh! Devo creare un nuovo post! È il momento dei consigli di bellezza di sabbi! Questo pelo deve andarsene! Oh! Au! Che noia! Serve un tocco di colore! Questo andrà bene! Oh! 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 E ciù! Oh! Che schifo! E ora le labbra! Mmm! Oh! Non i denti! Vai via! Oh! Ecco Audrey Hepburn! Ehi! Guardami adesso! Che bello scatto! Finito! E tu? Oh! Brufali! Sono ovunque! Oh! Cosa c'è che non va, Steve? Oh! Guarda! Sto malissimo! Perché? Questo ragazzo è strano, ma è bravo a scuola! Forse posso aiutarmi! Non può aiutare me con i voti! Sì, sabbi! Sei molto, molto sveglia! Ah! Ho un'offerta per te! Quale offerta? Tu mi aiuti con la scuola e io... Oh! Wow! Non ho più i brufoli! Oh! Wow! Figo! Pelle! Wow! Sul serio? Ma certo! Quindi? Ci stai? Sì! Affare fatto! Wow! Dammi il tuo test! Ecco! E ora userai i miei poteri da nerd! Stai indietro! Ah! Ah! E la risposta è... Zero! Uh! Fatto! Ah? La porta è bloccata! Lascia che ti aiuti! Sabbi! Fa tutta tua! Che nerd! Eliminiamo questo! Tira! Non spingi! Dopo di te! Sì! Sei così forte, Steve! Cervello e muscoli! E adesso? Tutto bene? Deve aiutarmi con questo, Steve! È ancora più facile! Con un po' di aiuto! Ad esempio... Sette più sette! E hai la tua risposta! Beh... Quattro! Forse questo ti aiuterà! Senti il ritmo! Cosa stai facendo? Uno più uno! Due! Due più due! Quattro! Ottimo lavoro! Quattro più quattro? Otto! Otto più otto! Non lo so! Non lo sai? Indovina! Otto! Ma dai! Non lo sai! Niente indizi! Era una bella canzone! Ok! Qual è il prezzo finale? Questo è facile! Cinque euro! Ovvio! Ah! Sei veramente brava! Che mi dici di questo? Steve, non essere ridicolo! Chi comprerebbe una borsa per 64 euro? Oh? Ho appena fatto algebra! Oh mio Dio, Savi! Conosci la matematica? Che figo! Questo significa solo una cosa! Sei ufficialmente invitata... Nel mio... Club! Nei geni di matematica! Eh? Eh? Sì, Steve! Come no! Benvenuti alla presentazione! Andiamo a salutare i fiori! Wiii! Intendo... Sì, sì, sì! Vi è piaciuto? Che cretino! Credetemi! Le api sono fantastiche! Potere nel palline! Sì! Che cos'è? Dove è andato? Sì! Siamo pronti per la primavera! Lasciamo perdere! Steve? Sì, signore? Ottimo lavoro! Sì! Ah-ha! Wow! Una A! Wow, grazie! Dilettante! Ah! Il mio turno! Ehi ragazzi! Per la mia presentazione ho preparato un ballo! Accendi! Giramento di spalla! Bracce incrociate! E via! Oh, che stile! Non devi nemmeno finire! Ecco il tuo voto! Otto più! Grazie! Otto più? Cosa? Oh! Come bugge! Ciao ragazzi! Scusate il ritardo! Oggi abbiamo un test! Cosa? Cosa? Che parangelo! Sì! Sono troppo pronto! Oh no! E adesso? Divido! Non sottrago! Puoi farcela! Sì, certo! Oh no! Forza cervello! Ho bisogno di un suggerimento! Oh no! Cosa ha questo odore? Io? Sono io! Ho bisogno di risolvere questo problema! Dovrei avere qualcosa! Questo dovrebbe funzionare! Un piccolo trucco femminile! Spero che funzioni! Se può funzionare laggiù, può funzionare ovunque! Sì, andrà bene! Ha finito! Sul serio? Oh, finito! Finalmente ho fatto! Che cosa? Oh, io odio la matematica! Oh, ma dai! Perché l'universo mi odia? Ragazzi, altri cinque minuti! Savvy? Oh, non va fatto bene! Devo aiutarla! Oh, ci sono! Savvy! Fermati! Non farlo! Aspetta! Ti aiuterò io! Capisci ora? Oh, sì, ho capito! È così ovvio! Sono più brava in matematica di quanto pensassi! Ed ecco il prossimo! Continua così, secchione! Nintendo Steve! Meno male che hai un sacco di cosmetici! Oh, ragazzi, che state facendo? Riporta due! Ehi! Savvy? Che sta succedendo? Wow! Ah! Du du du! Faccio il test! Che cos'è questo? Il mio colore preferito! Grazie! Oh, ce l'abbiamo fatta! Dammi il pugno! Sono orgoglioso di lei! Non sono poi così male! Eccola! Steve, ho preso un otto più! Steve, perché non mi ascolti? Ah! Un talent show! Credi che Chris ci sarà? Sì! Oh, lo spero tanto! Ti piace? Avanti, diciamo! Avanti! Fermati! Stai scherzando! Cosa dovrei fare? Per prima cosa, falle l'occhiolino! Poi, scuoti i capelli! E dopo, il tocco finale! Ti mordi il labbro! E poi è perfetto! Aspetta! È così facile? Sì! Ora vai! Buona fortuna, Steve! Stai bene? Cosa faccio? Ah, i miei appunti! Ok! Occhiolino! Forse un po' di più! Hai qualcosa negli occhi, forse? No! Scuoti i capelli! Ah! E? E? Sì! Mi mordo il labbro! Beh? Penso di essere in ritardo per la lezione! Ok? Ciao! Ora penserai che sono strano! Oh, Steve! Forse non è stata una buona idea! Mi arrendo, Savvy! Cosa stavo pensando? Aspetta! Ah! Ho un'idea! Perché non provi con il talent show? Ma non ho dei talenti! Sciocchezze, Steve! Sei la persona più intelligente che io conosca! Oh! Facciamolo, Steve! Avanti! Pronto? Ma cosa ci facciamo qui, Savvy? Dobbiamo trovare il tuo talento, Steve! Prova con la chitarra! Ah! Ma come si suona? È facile! Dammi la mano! Ora posiziona le dita in questo modo! Oh! Mi sta toccando la mano! Lo sto facendo bene? Ora strimpella! Oh! Ok! Eh? Eh? Sì! Eh? Eh... Continua a provare! Eh! Savvy! Penso di aver capito! Ah! Rock and roll! Sì! Ci sono! Ripensandoci! Dammela! Ma perché? Eh... Questo potrebbe non essere il tuo talento, Steve! Eh? E adesso? Forse sei un cantante! Un microfono? Eh... Non credo che... Prova! Ok! Preparati! Buona fortuna, Steve! Il mio cuore è batte solo per te e piccola! E se mi lasci... Oh no! Savvy! L'ho messa a capo con la mia voce! Ma cos'è questo? Un oxilofono! Ci giocavo qua ad ero un bambino! Ah! Com'è bello! Sì! Ah! Savvy! Ho trovato il mio talento! Cosa? No! È troppo semplice, Steve! Ho qualcos'altro! Prima di tutto, per farla innamorare di te devi saper ballare! Seguimi! Braccia! Braccia! Sì? Muovi! Muovi! Batti le mani! Muovi e batti le mani! È una tendenza virale? Lo è! Lo conosci? Certo! Non ho mai avuto qualcuno con cui farla! Facciamo un TikTok! Sì! Sarà un vero spasso! Ecco qui! Pronto! Braccia! Braccia! Muovi e batti le mani! Muovi e batti le mani! Mano! Mano! Guida la macchina! Fai la scala! E l'escursionista! In posa! E appendi 10! Steve! Abbiamo trovato il tuo talento! Sei stato bravissimo! Dici sul serio! Evviva! Sì! 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 È il giorno del talent show di Steve! Spero che sia pronto! Ciao, Steve! Pronto per il grande giorno? Che emozione! Passami l'unicorno, per favore! Respira profondamente! Espira profondamente! Oh no! Spero che abbia trovato un costume! Sì, signor preside! Sono il miglior studente! Sto dimenticando qualcosa! Cosa? Oh! Steve! Ci sto! Steve, perché non rispondi ai miei messaggi? Oh! Sto arrivando! Savvy! Sono qui! Sei in ritardo! Cosa indossi? Io! Ecco! Prendi questi! Beh! Non ne sono sicuro! Cosa? Non posso darci così! Savvy! Dici sul serio? Beh, tutti i vestiti qui sono super piccoli! Dove stai andando? Sì? Questo andrà benissimo! Va bene, Steve! Ecco! Indossa questo! Assolutamente no, Savvy! Rideranno di me! Non lo farò mai! Non posso credere che lo stia facendo! O la vai o la spacca! Signore e signori! Il nostro prossimo concorrente è... Steve LaPay! Ciao! Facciamolo! Oh sì! Oh sì! Che diavolo! Boo! Sei un fallito! Scegli! Steve! Seguimi! Sì! Ora tu! Ci sono! E uno! E due! E tre! Gira volta! Lo stai facendo! E spazzola l'aria! Ora suona lo strumento! E fine! Bravissimo! Sono così orgogliosa di te, Steve! Scusa, Steve! Non ti preoccupare! Mi hai aiutato a vincere! Oh, Steve! Scusa! Mio Dio, Steve! Non sapevo fossi così carino! Come ti senti? Sono così felice! Ora che è popolare, non ha più bisogno di me! Oh, grande! Savvy, no! Aspetta! Perché fa così? Pensavo di piacergli! Eravamo così carini insieme! Forse mi stava solo usando! Forse non sono abbastanza bella per lui! Steve? Lo vedo ovunque! Oh, cosa c'è che non va in me? Oh, Savvy! Sto arrivando! Oh! 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 Perché piangi, Savvy? Eri con i tuoi fan! Quali fan? Tu sarai mia fan numero uno! Sul serio? Sì! Ti ho persino portato questi fiori! Oh, grazie! Nessun altro sta guardando giusto? Ti serve qualcosa? No, grazie! Ne vuoi un po'? No, no, non è permesso! Lo riascolterò più tardi! E il prossimo argomento sarà... Oh! Sveglia! Sveglia! Non sono stata io! I tuoi appunti, per favore! Dove stai andando? Rob, almeno tu, dammi i tuoi appunti! Eccoli qua! Grazie, Rob! Nuovo record mondiale! Wow, che figo! I libri sono fatti per stare in biblioteca! Ti farò vedere io! Dovresti imparare a difenderti! Ragazzi, chi vuole venire alla lavagna? Oh! Non mi sento bene! Oh no! Rob, portalo dal medico! Adesso! Certo! Ma volevo tanto rispondere a quella domanda! La mia schiena! Eh, dai! Può prendersi cura di questo secchione! 112! Abbiamo un'emergenza! Ma che cavolo è? È disgustoso! È da parte mia! Penso che tu sia piuttosto sexy! A proposito, mi hai fatto i compiti! Accidenti! Salve, Prof Peterson! Salve! Prof Peterson, dove? Devo imparare a difendermi! E io devo superare il test! Ci sto! Hai! Dai, forza! Quarta e impara! Questa è per lei, Prof Peterson! Oh, grazie, Rob! Sei il migliore! Facile! Ora tocca a te! Questo è per lei, Prof Peterson! Hai ancora molto da imparare! Be the best version of yourself! Let's change, let's change, let's change! Be the best version of yourself! Today, today, today! Be the best version of yourself! Let's change, let's change, let's change! Be the best version of yourself! Today, today, today! Today, today, today! Ma dove sono? Il test! Vai, 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 vai! Aspetta, so che hai ancora altro. Tutto. Buona fortuna col test, Lea. Va bene. Lea, stai imbrogliando di nuovo? No, hai fatto un errore qui. Come ho fatto a non vederlo? Oh, ottimo lavoro, Lea. Ho preso un otto. Hai preso un otto? Ecco i tuoi compiti. Ed è ora di fare un makeover. Ciao. Ciao. Oh mio Dio. Che cosa? Oh, lascia che ti aiuti. No. Ragazzi, dovremmo uscire insieme. Facci sapere nei commenti che tu non è stato. Ehm... 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 Ehm...